Arrrr Un po' alla Sid Meier's Pirates Per cui visuale isometrica Si comandava la barca, si sparavano i cannoni Eccetera 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 Oggi siamo qua con un titolo che Ricalca la stessa ambientazione E vi ammetto che i giochi navali a me piacciono Ossia Blackwake Vi faccio notare che in alto a destra E questa naturalmente sarà la sinistra Perché nella telecamera le cose vengono speculari Per cui In alto a destra vi è Un tutorial che noi ignoreremo bellamente Allora Possiamo customizzare il personaggio Bene 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 Si quali capelli però la barba La barba quella si Tutto sbloccato per i livelli Cappelli nemmeno perché Va bene abbiamo già praticamente fatto Party tag non c'è Cerchiamo un server Ah mi è venuto un colpo pensavo non ci fosse nessuno Allora andiamo su questo Dream Team FF Only Ships Friendly Fire Vabbè è un Team Deadmatch 3 conto 3 3 conto 3 Ma c'è scritto 52 Comunque come potete immaginare Dalla Schermata di caricamento Che naturalmente è passata mentre lo stavo dicendo È un gioco di battaglie navali Che bello Tutto in russo Eh Chiusa squad Chiusa squad 12-13 7-7 Andiamo con gli Tirati dai Spaccati brutto Join Ok Quindi sono 13 persone su una nave Bello Cioè ognuno avrà il suo ruolo Sembra essere interessante Spawn Ok finalmente mi ha caricato anche i compagni Disco ribanda Io ora prendo un cannone Un cannone Come faccio a prendere il cannone Equip lighter Tranquillo Yeah Abbiamo vinto Non ho fatto assolutamente nulla Però fa niente Forse era il caso che Mi guardassi il Tutorial Needshot Grapeshot No Cannonball Ma sto premendo la E Sì Two first loadout Melee Vabbè facciamo side Confirma Ok Vabbè prima dovevo prendere Ho capito adesso Prima dovevo caricare le cose Qua città Ma perché gridano? Allora comunque I cannoni sono tutti caricati Signori come faccio a metterlo giù Equip lighter Ah ok Qua posso sparare Perfetto Fammi provare a sparare Look Bene Quelli sono nemici Turn Mi gira Spariamo Ho colpito qualcosa? Che ne so io Cannonball Loadshot Guarda che bravo che sono Ma non credo che vada di lì però Push Push E keep lighter Allora è carino che è In surround Per cui io sento la gente che mi parla A destra e a sinistra E c'è gente russa che parla Facciamo che li abbasso un attimo Perché sennò Come faccio a uscire? Con lei? In meno Ho sparato? Mi sa che ho sparato Ma non peraltro ma perché Dovevo metterlo dall'altra parte E fa niente Needs powder E dove la trovo la powder? Powder? No Dov'è la polvere? Polvere? Ho dei problemi Questo non credo No Questo qua è per tirare fuori l'acqua Vabbè io prendo la cannonball Vabbè qua me l'hanno occupato Qua me l'hanno occupato Quelli chi sono? Immagino che siano buoni Ci stiamo girando Ah con la S si torna indietro Va bene Prendiamo questo quindi E non ho ben capito come faccio Va bene Speriamo a sparare Cioè mi hanno levato anche dei punti Perché ho ma sbagliato Scusatemi eh Mamma mia quanto gridano però Signori miei Allora non è brutto come gioco È abbastanza complesso Ed è abbastanza simulativo Perché se avete notato Ci sono le pompe Che è questo Per buttare fuori l'acqua Dallo scafo Nel caso in cui ci siano falle Ecco appunto Devo pompare Quello è morto malamente Perché è esploso Comunque è molto simulativo È fatto abbastanza bene E mi ricorda un po' Sea of Thieves Anche se in versione un po' più seria Cosa che apprezzo Anche se in verità Sea of Thieves era carino Con quella grafica un po' cartonesca Effettivamente forse C'era da vedere il tutorial Ripeto Però è abbastanza Intuitivo come gioco Alla fine noi carichiamo su La palla di cannone La mettiamo su un cannone Se ci fosse un cannone libero Andiamo a puntare E poi eventualmente Spariamo E ci becchiamo gli insulti dei colleghi Need power E dov'è la power? Anzi in verità sarebbe powder Ho sbagliato Però comunque Dov'è la polvere da sparo? Signori No Supply crate No Signori dov'è la polvere da sparo? Mi potete aiutare? Scusi lei Preparation H E preparazione H Credo proprio di sì E Porca vacca Ho sparato Ho sparato Ho sparato Non volevo Pensavo di provare un attimo Una cosa E Dove trovo la polvere da sparo? Bucket No Questo è per tirare via l'acqua Immagino O per spegnere i fuochi Vabbè Abbiamo vinto Comunque Per un attimo Con gente che prende Sebbene mi piace lo stile Sebbene mi piace lo stile Un po' troppo ripetitivo Qui fondamentalmente È solamente che io sappia Un team deadmatch A differenza di 60 euro Di self thieves Che quanto l'ho pagato io all'epoca Comunque dalla sua soddisfazione Ci si diverte Fa quello che deve fare Signori provatelo Black wake Su steam Per me direi che è tutto Ciao Grazie a tutti